Sia il sensipario sulla Primiero Dolomiti Marathon è stata ufficialmente presentata al Museo delle Scienze di Trento, la prima edizione di questo nuovo spettacolare trail di montagna in programma sabato 2 luglio nell'incantevole cornice di Primiero Cuore del Parco Naturale di Paneveggio, Pale di San Martino, organizzato dall'Unione Sportiva Primiero e dal Venice Marathon Club e promosso da Smart, l'azienda per il turismo San Martino di Castrozza, Passorolle, Primiero e Vanoi e dalla provincia autonoma di Trento. Più di 1500 iscritti e 16 nazioni partecipanti, una corsa ma una grande festa per tutti e soprattutto famiglie comprese per un evento in un luogo unico e suggestivo. Tante persone che verranno per la gara e quindi moltiplicate le occasioni per visitare, per vedere il nostro territorio. È a energia rinnovabile 100%, noi produciamo tutta la nostra energia, quella che ci serve, quella che usiamo, tutta da fonti rinnovabili e quindi più grindi così non si può, quale occasione come quella dell'Ecomaraton insomma per respirare, per verificare sul terreno la nostra sostenibilità. Una pista naturale che non ha uguali, nello spettacolare scenario delle Dolomiti, corridori esperti e semplici neofiti appassionati della montagna potranno scegliere tra tre diversi tracciati mozzafiato, 42 km, 26 km e 6,5 km, aperti a tutti e di diversa lunghezza e difficoltà che si svilupperanno lungo le valli incontaminate di Primiero e San Martino di Castrozza. Anche noi come Venice Marathon abbiamo ritenuto di sviluppare la nostra esperienza anche a servizio di questo grande progetto. Noi siamo assolutamente convinti della validità di questa idea e crediamo che questo evento possa crescere moltissimo, dando un contributo sia al running, che sta vivendo comunque un momento positivo, e ancora più a questi luoghi, alla promozione turistica di queste zone bellissime e con un turismo intelligente, un turismo che è quello giusto, quello degli sportivi, che rispettano l'ambiente, che sanno anche apprezzare i valori enogastronomici, paesaggistici. Quindi auguri a questa iniziativa e da parte nostra il massimo entusiasmo e il massimo impegno per il futuro. Grazie.